L'attore Marco Bocci nel programma Le Iene ha parlato del virus che quattro anni fa lo ha colpito al cervello raccontando uno dei momenti più difficili della sua vita quattro anni fa sono sopravvissuto ad un virus raro mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola mandandole in tilt per un po parlato una lingua tutta mia incomprensibile agli altri ma se la capacità di parlare è tornata la mia memoria e tanti ricordi invece sono spariti per sempre oggi non riconosco i volti di tante persone amiche e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi da un minimo dettaglio che io invece quel film l'ho già visto